Sarà una bellissima partita e spero che vinceremo. Un pronostico? Due a uno, per l'Italia. Chi segna? Girelli e Giuliano. Forza Durre! Bocca al lupo! Due a zero, Bonanzea-Giacinti. Ma io spero in un gol della Guagni e della Giacinti, sì. Vinciamo all'assa grande. Una a zero, non mi dilaccio. Io mi sento due a uno, due a uno per l'Azurre. Secondo me pareggio. Forza Durre! Forza Durre! Forza Durre! Forza Durre! Forza Durre!